Salve a tutti ragazzi, questo è il Votermelon Channel e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi vi mostro a grande richiesta l'armadietto di Fortnite. Diciamo che di solito non faccio video dedicati a Fortnite, però me l'avete chiesto in tanti e quindi adesso io cercherò di accontentarvi facendovi vedere l'armadietto con tutte le skin, i balli, le cose che ho. Allora, se vi interessa e vi piace questa tipologia di video lasciate un like e scrivete nei commenti per qualsiasi cosa e lasciate anche l'iscrizione al canale se ancora non siete iscritti. Via col video! Allora, partiamo subito dalla prima skin, Deadpool. Allora, io purtroppo non posso fare una massima di quello che ho speso in skin e balli e altre cose così perché non ricordo e non ricordo neanche il valore. Per cui se magari nei commenti riuscite a farvi voi un calcolo e a vedere quanto ho speso per le skin, mi fareste un grande piacere anche perché sarei curiosa di scoprirlo, però al momento non saprei. Comunque io penso che parecchio ci ho speso, quindi allora Deadpool, poi abbiamo il Mandaloriano nei vari stili con le armature diciamo normali oppure col Beskar. Poi abbiamo l'assassina della guia, questa è stata la skin che mi sembra che ho, sì, ho entrambi gli stili e comunque questa è stata una skin di un pass battaglia un po' diciamo non troppo vecchio, però dell'anno scorso sicuramente, uno o due anni fa, ed è stato un capitolo che mi è piaciuto molto. Abbiamo il primo Fade, che non è che mi piaccia tanto, con o senza la maschera, poi abbiamo Fondazione, leggendaria skin leggendaria, no che ho fatto, ho fatto equipaggio, vabbè. Fusione, Galaxia, che mi sembra che questa era di una crew, faceva parte appunto della crew di Fortnite a cui ero abbonata, poi ho disdetto l'abbonamento perché le skin non mi piacevano più. Poi abbiamo Joy, bella questa skin, però non lo so, non mi ispira tanto a giocarla, abbiamo in questi due stili. Poi abbiamo Chimera, che è personalizzabile come si vuole, qualsiasi tipologia, oppure anche i colori dell'armatura, non è che mi faccia impazzire neanche questa skin, però vabbè, l'abbiamo perché faceva parte del pass battaglia vecchio. La regina dei cupi, anche questa fa parte di un pass battaglia ed è molto bella, mi piace, ce l'ho sbloccata in tutti e tre gli stili. Poi abbiamo Malik, anche questa, vari stili di un pass battaglia. Menace, menace, non so come pronunciarlo, è molto bella per questa skin. Mida, che è una delle mie preferite, con stile normale oppure stile, appunto, tutto oro. Paradigma, poi Predator, e questa qui l'ho acquistata sicuro perché la ricordo e non costava neanche poco. Poi, Professionista di Coccole Mecha, Thorin, in tutti gli stili possibili e immaginabili. Specialista di attrezzatura Maya, faccio vedere gli stili di Thorin, ce li ho tutti comunque perché avevo nerdato parecchio nel pass battaglia in cui rappresenta questa skin. Poi Sorana, Snap, Ronin, Razz, anche questa in tutti gli stili. Poi Twin, ah sì, che fa parte appunto di un pass battaglia, se non mi sembra questo il precedente. Ma adesso so, c'è una gaff pazzesca. E comunque che appunto diventa maschio o femmina, secondo dello stile che impostate. V, che fa parte della crew, Baraninta Polare, Clark Kent, poi Corvina, questo della serie DC e abbiamo appunto gli stili vari di Corvina. Freccia Verde, Arrow, poi sempre della serie DC, abbiamo Harley Quinn, nei due stili, quello classico e quello del film, Size Squad. Chun-Li, Doom Slayer, Lara Croft, nei stili diciamo dal più vintage a quello più moderno. Ryu, Carnage, Spider-Gwen, nei stili entrambi, sia appunto con la maschera sia senza la maschera. Mystic, Loki, Jennifer Walters, Groot, Doctor Doom, tutto della serie Marvel, ancora della serie Marvel Spider-Man. Spider-Man, in due stili. Spider-Man, No Way Home, questa acquistata sicuramente, l'ho acquistata perché mi ricordo questa cosa, se non mi sbaglio. Storm, Thor, Tony Stark, Wolverine, della serie Marvel. Spider-Man, poi della serie di Star Wars, Boba Fett e Darth Vader. E anche il Mandalorian in realtà, però non so perché non l'ha messo qui. Poi Adira, Agente Baronita, Agente Jones in vari stili. Poi Araldo, in realtà non vi faccio vedere tutti gli stili perché penso che li conosciate, anche perché sennò il video durerebbe ore. Poi Charlotte, Cavalcata in Pesta, Cartonno, Cameo vs Chic. In più stili, Bite, Brutus, Occodè, Commando di Neve, Coniglio Mastino, Demios, Deimos, scusate. Coniglio Mastino, se non mi sbaglio, me l'ha regalata Matti, che è un nostro iscritto e anche il nostro amico. Poi l'autorista Sloan, Heavy, Heaven, Arloi, Arloi, non so precisamente, Gambo, Gumbo, Gagimon, Gugimon, Gritz, Fabio Foltachioma. Sì, trascissima sta skin, una delle più brutte che abbiano mai creato personalmente. Il lupo in fiamme, Indiana Jones, JB Schimpansky, Jones e Fab, Jules, Condor, Massai, Mancake, Lambo. Anche questa bruttissima. Poi Lexa, Lasso, che è una vecchissima, se non la prima skin che abbiamo acquistato in assoluto. Sì, mi pare che è proprio la prima skin che abbiamo acquistato. Eh, vabbè, epica per noi, diciamo. Core, Maeve, Miao, Scheletro, Miascolo, Nitroglicerina, Oceania, Origini del Caos, fa parte questa anche di una crew. Sabina, Rosa Lennox, Rick Sanchez, Rick Grimes, Reese, Palla 8 vs. Palla in buca. Selene, Shanta, Sky, Sunny, T-800, Terminator, Tarana, Adeline Artica, Ripley vs. Slime, Zig, Xenomorfo, Tenente Sempreverde, Tengeon Lama, Tenente John Lama, Burr, Bruma, Centurione, Commando Carbonio, Dark, Diva Diamantina, Dizzy, Journey vs. Extreme, Iris, Guff, Guff, pronto alla slitta, che appunto è apparso da pochissimo. Guerriero Lanoso, Fixer, Fendi Onde, John One, Crisabelle, Macaque, Piumino da Tormenta, Punk Cromo, Rimedio vs. Tostino, Zoe Macello, Veronica, Tank vs. Reptide, Trilogia, Tess, Sultura, Aura, Comandante Confortevole, Conni, Cristallo e Cristallo e Cristallo Sub. E queste erano le skin. La roba dello zaino ve la faccio vedere molto molto velocemente. Perché non stiamo qui a descrivervi tutto perché se no ci staremmo le ore. Comunque vi farò vedere una panoramica generale tutti gli zaini che abbiamo. Amo parecchi. Ma in genere io non li porto perché, non lo so, mi sembrano troppo visibili. I picconi. Io in realtà gioco molto di strategia, quindi non metto cose troppo appariscenti. E mettere anche lo zaino mi sembra una cosa in più per farsi, ecco, notare sempre di più. Anche qui vi faccio vedere una panoramica generale di tutti i picconi che ho. Anche perché volevo concentrarmi più sulle skin che su tutto il resto. Di picconi mi sembra che qualcuno l'abbiamo comprato. Però non ricordo, forse sono tutti regalati o appunto ottenuti col pass battaglia. Però ecco, vi faccio comunque una carrellata così che possiate vederle. La cosa che più ci tenevo era quella di farvi vedere le skin. Anche qui sui deltaplano non li abbiamo mai acquistati. L'abbiamo sempre avuti tutti quanti in regalo o con i pass battaglia. Beh, la Razor Crest usiose qui fanno parte anche di alcune cose, di alcune skin che abbiamo comprato. E quindi c'è uscito anche poi il set con piccone e deltaplano. Quindi forse qualcosina che abbiamo acquistato c'è. Faccio vedere giusto un po' di aperture. Alcuni molto 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 ingombranti, quindi non li ho mai utilizzati. Cioè non so neanche di averceli alcuni, cioè. Uso sempre le stesse cose. La cosa che preferisco di più sono gli ombrellini perché hanno una capacità maggiore di far vedere appunto dove si atterra senza essere troppo ingombranti. Poi, vabbè, queste sono tutte le discese, le scie, scusatemi, correlate alle skin. Poi ci sono i balli, le emote, diciamo, con alcuni balli. Sono i più, diciamo, famosi che però non potete sentirli perché ho tolto il copyright. GG, vabbè, le emote sono tantissime, anche i balli sono veramente tanti. Faccio vedere tutto così, alla veloce. Comunque io credo che, vabbè, considerando o tralasciando, non saprei anche pass battaglia. Io credo che 7-800 euro, se non di più, le abbiamo spesi. Poi fatemi sapere anche voi se riuscite a farvi i calcoli di skin e robe varie, così, di tutte queste cose che appunto abbiamo. Faccio appunto vedere la carrellata veloce. Ah, questa è la cantata natalizia che facciamo ogni anno con il team. Più che altro i balli, volevo farvi vedere, cioè... Stiamo molto qua, così. Donna mia, quante nessuno! Roba! Cioè, pazzesco! Ci starei le ore a farvi vedere tutto, volevo fare un video abbastanza corto. Poi, se volete il video più approfondito di tutto, fatemelo sapere nei commenti, che vi devo dire, perché veramente non mi aspettavo tutta sta roba. Eppure c'è sicuramente gente che shoppa più di noi, e quindi questa sarà una piccolissima parte di quello che in realtà, appunto, si può avere. Ah, questo è di Cobrakai. Cioè, dove è di Cobrakai? Come si chiama? Carati Kid, ecco. E questa, vabbè, vecchissima. Prima apparizione stagione 1. E, ragazzi, potete vedere anche le altre cose, oppure, diciamo, le emote in maniera più approfondita, e quindi tutto l'armadietto in maniera molto più approfondita di così, lasciate un mi piace, scrivetelo nei commenti. E, secondo voi, fate una stima di quanto può valere il mio armadietto. Detto questo, alla prossima. Ciao, ragazzi.